Flessibilità totale, numero di visioni, passi impostabili via software, precisione, massima accuratezza grazie al riduttore a gioco meccanico zero, dinamicità, sono possibili cicliche con forti dinamiche grazie alle elevate coppie acceleranti trasmissibili, banco cuscinetti integrato, generosa capacità di carico dei due cuscinetti a rulli conici del riduttore, compattezza, ingombro radiale minimizzato rispetto alle soluzioni tradizionali, assenza di manutenzione, riduttore già sigillato e lubrificato a vita, economicità, soluzioni con un elevato rapporto prestazioni prezzo.